Ha sentito le parole di Roberto Fico? Non me ne frega un cazzo. Noi teniamo duro, siamo la Lega di sempre e abbiamo trovato un ottimo alleato con un contratto di governo serio su cose che si possono fare assieme, ovviamente smussando qualche angolo da parte di entrambi, mandando avanti per il cambiamento e mandando tutti quelli che hanno sgovernato questo paese, a cominciare dai signori del PD finalmente a lavorare, a trovarsi un lavoro, loro che non hanno mai fatto un cazzo nella vita.